GRANDEVENUE Certo, Sal, ma la prego di essere cauto. Le scansioni indicano che il blindato di Deathstroke ha un campo visivo a 360 gradi. Sarà impossibile sorprenderlo. Sai cos'hanno in comune tutti quelli che mi hanno affrontato e si sono salvati, Batman? Li ho ammazzati dopo. Avvio scansione a 360 gradi. Appena ti trovo sei morto. Drone in attivo. Arrivano due Cobra. Quattro ancora operativi. Stai sfidando la fortuna, Batman. E ormai non te ne resta molta. Il clima è da poi. Oh, oh, oh. Come, 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 come. Fuorilingtatto. Comunicatable! Drone disattivo, mando un Cobra di supporto Signore, ci restano tre Cobra sul campo Non puoi restare nascosto Cobra abbattuto, mantenere percorso di ricerca Due Cobra operativi Cobra disattivo, ho del supporto in zona, lo mando subito Mi resta una sola unità operativa Unità di Kingston offline Non fuggirai, Batman La morte bussa alla porta, Batman Sei finito Sono troppo forte per te Grazie a tutti Vigliacco infame Mi hai colto alla sprofista Non avresti dovuto farlo Se fossi un vero uomo Accosteresti E la faresti finita una volta per tutte Hai avuto un'occasione È finita Ti ucciderò, Batman Allora spero che qualcuno alzi la taglia sulla mia testa Oh Questo traghettatore non vuole soldi Li consegnerò gratis Muoviti, Slade Questa la chiami una prigione Credi che sia saggio? Mettermi qui con tutti questi guerrieri da quattro soldi Potresti non avere prigionieri al tuo ritorno Bellezza È la specialità di Pig Pig ti può Ringiovanire Pig può Cancellare Le cicatrici Grazie a tutti